buonasera fata garbatella buonasera non male sotto questa pioggerellina che cosa sta leggendo la fata guarda che bello che ho vedi allora questo è un inserto del 1989 interessante nel messaggero come inserto ma l'inserto del 1942 naturalmente donatomi nei primi anni 2000 da carlo acciari che mi ha regalato tante cose per un discorso che noi avevamo come progetto sull'arte sull'arte partendo dalle fiabe e dai fumetti ma la cosa bella che lui ha lasciato non è soltanto il topolino e il misterioso corvo ma già nel 1942 andavano in giro i misteriosi corvi ma guarda che bello qui inquadra questo qui ci sono ecco guarda i disegniti che lui aveva buttato giù degli schizzi a mano libera questo schizzo qui questi due schizzi una mano felice questo è un posto magico particolare che chissà in autunno che cosa accadrà qui ciao una magia ciao